Privet, io sono Tagnusha e sono a Pisa e piove sotto la torre perché voglio fare un esperimento sociale che poi è un termine modaiole per definire le candid camera, quindi chiamiamolo un esperimento sociale d'integrazione carasciò. Chiederò di cantare l'inno italiano, fratelli d'Italia, alla gente in Russia. Questo resiglierà allo spirito d'integrazione sentito dentro di noi. Bratella Italia, Italia, пробudилась, e che Sceppiona, la gula di il cuore, Non c'è più! Non c'è più! Non c'è più! Per integrazione si intende l'inserimento dell'individuo all'interno di una collettività attraverso il processo di socializzazione con l'esclusione di qualsiasi discriminazione razziale. Sono consapevole che in questo periodo anche solo parlare di integrazione è difficile, in quanto un argomento tanto delicato quanto complesso. Però per mia esperienza, per quanto limitata e soggettiva, ho notato che tutti noi, senza eccezione, abbiamo un profondo bisogno di amore e appartenenza, che una volta soddisfatto porta a sviluppare il nostro pieno potenziale. E quando viene a mancare la realizzazione di questo bisogno primario, che nascono tutte le altre complesse implicazioni, derivate da non avere tutte le stesse possibilità, una vita serena, una valida istruzione, un lavoro gratificante. E utopia, lo so, non possiamo né essere tutti uguali né avere tutte le stesse cose, purtroppo. Però non riesco a fare a meno di pensare di quanti Steve Jobs, Yuri Gagarin, Leonardo da Vinci e altre migliaia, milioni di menti brillanti, ci siamo persi, perché nati in luoghi martoriati da guerre e povertà. Ambienti ostili, che le hanno impedito di svilupparsi nel loro pieno potenziale. Non lo sapremo mai. Il non riuscire a dare a tutti tutto è una perdita, e non per poche, ma per tutta l'umanità. Grazie per aver guardato il video. Se ti piaciuto, metti un bel mi piace, commentalo, e non dimenticare di condividerlo sui vari social network. E, nel caso tu non l'abbier già fatto, iscriviti. Ti senti ora più integrazione con il mondo? Beh, sono scoperta, magari, cosa stavo cantando?